Nel prossimo Consiglio Comunale si parlerà dell'ex area Alcatel e Copmes, che presto potrebbe rinascere grazie anche alla Stu Scafati Sviluppo, alle attività produttive e al conseguente indotto prodotto da questo ambizioso e significativo piano di sviluppo messo in cantiere dal sindaco di Scafati Pasquale Aliberti. Questa amministrazione cammina veloce, corre perché bisogna dare risposte alla città. C'è la questione dell'ex Alcatel, noi finalmente abbiamo deciso che cosa fare, due mesi, gli altri ci hanno messo insomma tre anni e mezzo, quattro anni, non avevano deciso cosa fare. Vogliamo reindustrializzare quell'area, lo vogliamo fare attraverso la Stu, la Scafati Sviluppo, coinvolgendo naturalmente imprenditori che hanno grandi capacità e che hanno soprattutto la capacità di ricollocare quei 70 dipendenti che sono ancora sull'orlo della disperazione, che sono quelli che insomma, gli ex Alcatel che sono ancora in mobilità. E credo che questa cosa riusciremo a farla nel giro di un anno e mezzo, quindi reindustrializzare l'area coinvolgendoli gli imprenditori. Tra le altre cose, in questa grande operazione abbiamo detto che bisogna coinvolgere anche progettisti importanti, tant'è vero che abbiamo mandato l'idea progetto a Fuscas, a Renzo Piano, a Giugiaro, qualcuno di questi già ci ha detto che è interessato, la settimana prossima abbiamo già degli appuntamenti con alcuni di questi che ho citato, insomma un'amministrazione che ritiene semplicemente questo, che l'Alcatel non è una palla al piede, ma rappresenta insomma una grande opportunità che questa città ha anche per rilanciare l'economia che in questi ultimi anni ha vissuto momenti drammatici. Il costo della vita non risparmia nemmeno gli studenti universitari salernitani e i loro genitori. La tabella delle nuove tasse universitarie è stata approvata. Per gli studenti, sui prossimi vagli ad iscrizione, l'aumento sarà tra i 16 e i 54 euro. A deliberarlo il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo della Valle dell'Irno, preseduto dal Rettore Raimondo Pasquino e composto da una rappresentanza di ben quattro studenti dell'Ateneo. Le tasse dell'Ateneo salernitano sono aumentate dal 2004 al 2006 in modo esponenziale, con la sola eccezione del 2007, aumenti secondo le rappresentanze degli studenti che non corrisponderebbero alla qualità dei servizi offerti dall'Ateneo salernitano, mentre il Rettore Pasquino parla di un esiguo aumento, dovuto principalmente al taglio dei fondi del Governo centrale. L'epurazione a Libertiana a Palazzo Meyer continua, seppure sotto sottile forma di dimissioni. Il taglio con il passato sembra non conoscere alcuna sosta. Dopo le clamorose dimissioni della segretaria comunale Lucia Petti, tocca al comandante dei caschi bianchi Alfredo D'Ambruso lasciare l'incarico. Ufficialmente sono dimissioni dovute a motive strettamente personali, una decisione che lascia perplesso l'intero nucleo di polizia locale, che chiede al suo capo un ripensamento. Cosa improbabile, visto che nei prossimi giorni i capi settori del Comune saranno rivisti dalla giunta guidata dal sindaco Pasquale Aliberti. Una revisione che potrebbe portare alla guida dei settori dirigenti legati fortemente al centro-destra. Una revisione che sta mettendo in discussione tutti i capi settori, D'Ambruso incluso. Anche questo fa parte della presa di Palazzo Meyer da parte di Pasquale Aliberti, pronto a cancellare Tucurro, illustro bottoniano.